Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Questo video sarà il video dell'incontro a Verona Sarà un vlog E lo registrerò dal telefono perché purtroppo non ho una macchinetta digitale con cui fare i vlog Spero che comunque il video vi piaccia E niente, ci vediamo a Verona Ciao a tutti E siamo seduti davanti all'arena a fare niente Come al solito Ciao a tutti 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 E' finito, ora sono in bagno E' stato molto molto bello Ho ripreso poco Scusa, ho ripreso poco Ma ero lì con loro Non volevo star lì a fare video E niente Mamma, non parlare dal bagno tu E quindi niente Ho fatto un po' di video Forse mi ha me ne ha fatti altri E niente Dopo vi faccio vedere i regali E' costante Vlog importante Come il video importante Il video importante Eeeh, ciao Grazie di tutto Guardate qui il sole Che bello il tramonto Io sono il sole Allora, ora ci stiamo fermando a mangiare a McDonald's E io ho aperto i regali in macchina Perché mi stavo troppo annoiando Volevo aprirlo nel video Però questa collanina è troppo stupenda Dopo li aprirò tutti E vi dirò anche il nome di chi mi ha regalato Questa appunto cosa molto molto carina Eeeh Vi farò vedere tutto il resto Dopo, cioè fra adesso Allora, scusate per la qualità Schifosissima Veramente Però, allora Prima cosa che voglio dire E' che sono andata in edicola E ho trovato questo Questo giornalino Che vi consiglio di comprare Perché Un pezzettino su di me Quindi se vi fa piacere Andatevelo a vedere O comunque sì E ora vi mostro i regali Che mi avete portato Allora Mi avete portato un paio di cartelloni Tipo Belli Stupendi Cioè Sono bellissimi Li appenderò in camera Appena avrò tempo E dovrò anche trovargli un posto Non si vede nemmeno tutto Vabbè Ecco qui insomma Bellissimo Questo stupendo Questo qui Bellissimo Oh mio dio E' bellissimo Veramente E questo l'ha fatto Noemi Grazie mille Noemi Veramente Stupendo Poi questo qui Che è tipo troppo 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 Bello Si è un po' rovinato Purtroppo E ci sono tutte le emoji Che io non ho idea Di quanto tempo Tu ci abbia messo Per attaccare le vitte Comunque così E poi qui c'è Tipo una letterina Troppo troppo carina Non so il tuo nome Però grazie mille È bellissimo Poi Questo cosa Troppo figo Sì Fammi sac E dentro c'è scritto Ciao a tutti E benvenuti In questo nuovo video E dietro Senti Ci sono i nomi Di instagram Dopo vi vado a seguire Poi qui c'è Una lettera Che è Troppo carina Io l'ho già aperta Prima Come ben saprete E è da Sara Ele Quindi un bacione Grazie mille Veramente E è troppo Troppo carina Colorata E grazie mille Oh non lo so Di tutto Che è troppo carino È troppo carino Cioè È stupendo È tutto Carinissimo Morbidissimo E però purtroppo Su questo Non c'è il nome Quindi non ho idea Di chi tu sia Poi un portamonente Penso Un portacuffiette Non so Penso che lo userò Per le monete Per scuola E in cui c'era Questa collana Bellissima dentro Purtroppo non c'è il nome Però Veramente Questa persona La ringrazio tantissimo Perché Mi è piaciuta troppo Cioè È bellissima Lo userò sempre E niente Questo è di Bershka Che solo perché C'è scritto Bershka È stupendo Poi C'è Un piccolo Carcellone Cartoncino Che posso dirlo Un Così Stupendo Con gli evidenziatori Grazie mille Veramente Road to 100k Ci arriverò Prima o poi Non c'è scritto Delle caramelle Di Tiger Che sono Troppo 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 buone Queste sono Buonissime Questo è da Maddi E Ceci Quindi Grazie mille È stupendo Questo Coder netto Di Tiger È bellissimo E anche Una gomma Che non so Se è gomma pane O gomma normale Comunque È nera Quindi è troppo bella Perché è nera E con gli occhi È troppo bella E grazie mille Anche a Elisa E Lara Lara o Sara Un bacione Quindi niente Grazie veramente mille A tutti Quelli che sono venuti E niente Ci rivediamo Al prossimo video Ciao Ciao